Musica 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 Adesso abbiamo un obiettivo intervento di Rita Natori che porterà in scena una simplici dello studio di Franca Nama in 1975. Grazie Rita. C'è una radio di sole, ma solo dopo un po' la sento, dopo un po' sento una voce che canta, musica leggera, mare, sole, cuore, amore. Amore, amore. Ho un ginocchio, uno solo, puntato sulla schiena come se quello che mi tiene dietro, regalando un poggiato interno, con le mani, con le mani che mi fortissime di mie, girandomene all'incontrato, specialmente la destra mi fa male, mi fa male allo sgomento. Lo sgomento mi sta per perdere il cervello, la voce, la parola. Si muove tutto, con le intenzione, ma io, come sono arrivata, come sono arrivata, su questo cammincino. Ho camminato io, le mie gambe, una da volta, spinta da loro, oppure, pure m'hanno trascinata. Ma non sono arrivato nel mezzo, non lo so io, non me lo ricordo, non me lo ricordo. Ho il cuore che batte, forno bene, riposto, impedendomi di ragionare, di respirare. Ma perché? Perché mi vengono così forti? Io non mi muovo, io sono impietrita, io sono in viaggio. Io ho paura, io ho paura. Mi sento come una faccetta alla finestra, non si costretta a guardare delle cose. Corri qui di te, calma, 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 non lo stiamo in te, calma. Adesso, quello che prima era di niente, mi davanti, mi stringe fortissimo, fortissimo. Tra le sue gambe, come una morsa, io cerco di pensare ad altro, di sentire le voci che vengono da fuori, la fisica. Ma sono bloccata, e sono bloccata, non è solo. Accanto a lui ci sono altre tre persone. Uno dietro, mi tiene la testa, sento guizzare sui nostri, pronto, pronto a intervenire ad ogni mio movimento. Io vedo tutto un altro, alla sinistra, un altro alla destra. Io non vedo se non si vuole, sono, sono a buio. Io ho paura, io ho paura. Adesso, uno si accende la sigaretta. Fumano. Perché fumano? Mi tengo a così, fumano adesso. Sta per succedere qualcosa. Lo sento, lo sento, Dio. Io ho paura. Vedo la sigaretta. Che passa da una mamma all'altra, vicinissima, vicinissima, alla mia faccia. Vengo in ampia, mi sento, vicinissima, ai miei occhi. E sento, la puzza del buceano. Sobvio, boff. Anche allora, dalla fastidio al buzzo di fumo, perché con la lamenta, mi scrappolo il bagnone, mi scrappolo il reggiselo, mi taglia, mi strappolo la pelle. Oh mio, sono terrorizzata da lei. vuole morire, vuole sparire. Ma ce la faccio. Io ho paura. Adesso, adesso, quello che sta davanti a me, mi apre la scendiera, e manterrò, mi divarica le gambe. Mi toglie una scampa, una sola. una gamba, una sola. E poi, poi, penetra. Uno, due volte. Movimenti sincronizzati con quello che sta dietro. Uno, due volte. Muovi di lontano con quello che sta dietro. E poi, muovi di lontano con quello che sta dietro. E poi, è la seconda dell'altro. Un movimento. Due volte, sempre più forti. Sempre più violenti. Sempre più vicini. Muovi di lontano. Muovi di lontano con quello che sta dietro. Quelle bestie. Ancora il terzo. Muovi di lontano con quello che sta dietro. Muovi di lontano con quello che sta dietro. Non posso respirare. C'è un po' di testa in piano. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Perché si fa a barbettare. Muoio. Muoio. Sto morendo io. Sono malata di cuore. Muoio. Ci credono. Non ci credono. Si bloccano. Bannano. Si insultano. Vole uno schiaffo. Poi, qualcuno spegne. Mestirete sul mio collo a quel punto. Finalmente. Finalmente. Credo di essere seguita. Mi risveglio dopo voi. Mi muovo. Mi sento di risveglio. Metto un'ilemmi nel bagliore. Nel gioco in cinza. Sono il tempo di sciogliere. Il tempo di sciogliere. Non mi viene. Dove sono? Dove sono? C'è il buio. Fa freddo. Dove sono? Al barbettare. Che faccio adesso? Vado. Vado a casa. No, no. A casa. No. Posso. Cammino. Cammino. Davanti al palazzo della fissura. Vado. Vado. Macchina. Escoli. Gente. Che va in piedi. Allora io. Io vado. No. Poi penso. Alle mie domande. Agli sguardi. Ai mezzi. Sorrisi. Ho deciso. Io. Vado a casa. Vi denunzierò. Domani. Vado a casa. Vado a casa. Vado a casa. Vado a casa. Grazie.